Quello che è accaduto quest'aula oggi e prima di quest'aula, in Transatlantic, nel corridoio delle commissioni, dove ai parlamentari è stato impedito di entrare in commissione e lei doveva aprire questa seduta criticando questo atteggiamento dei colleghi del suo gruppo. Colleghi, per favore, colleghi, colleghi, smettetela di urlare. Collega Rosato, non la sento, sta solo urlando ma non la sento. Collega Di Maio, lei mi sente benissimo. Collega Fiano, la richiamo all'ordine. Collega Fiano, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Collega Fiano, la richiamo all'ordine. Collega Fiano, si allontani dall'aula. Colleghi, colleghi, collega Fiano, si allontani dall'aula.